va bene iniziamo allora intanto grazie a tutti per la presenza qui oggi ringrazio davvero tutti nonostante la grande negazione mediatica che è stata fatta contro contro questa conferenza volevo giusto spendere due parole riguardo quello che è successo questa settimana appunto contro questa conferenza contro casa pound soprattutto contro l'editore altaforte noi qui fuori in questo momento comunque durante tutta la settimana abbiamo sentito persone esprimere diversi pareri riguardo la nostra casa editrice o comunque il libro di marco riguardo la nostra legittimità d'esistenza un po un po di tutto insomma quello che è saltato fuori alla fine dei conti è sempre poi lo stesso discorso alla fine che a forza di contrastare questa questo sviluppo diciamo che stiamo avendo noi noi come la casa editrice come con lo stesso marco simone di stefano a forza di contrastare l'unico obiettivo che viene raggiunto da queste persone è la crescita nostra quindi una pubblicità gratuita fatta questa conferenza una pubblicità che sinceramente a noi sono sincero ha fatto più che piacere e dico la verità noi eravamo più che aperti e siamo tuttora più che aperti a un confronto libero e uguale su tutto libero uguale libero più che altro in merito al tema che viene trattato oggi che non è né quello del fascismo né quello dell'antifascismo ma è un tema molto importante che è l'europa come sapete noi in questo momento siamo alle soglie ormai delle elezioni europee quindi finalmente perché se ci state facendo caso quasi nessuno ormai sta trattando il tema delle europee come se fosse un elezione marginale una parte minima di un non lo so di un processo legislativo di un processo di personalità parlamentari inutile e semplicemente fuori luogo per noi non è così per noi è un'elezione importante sarà una tornata elettorale veramente fondamentale dove tra le altre cose siamo l'unico movimento l'unico partito in gioco a portare avanti un unico punto sul programma che poi sarà la base diciamo di questa di questa conferenza di oggi che è il basta euro basta unione europea probabilmente probabilmente questo punto in programma è quello che più dà fastidio a chi in questi in questi mesi o in questi giorni per quello che riguarda la conferenza ci ha contrastato e ci ha ci ha criticato insieme poi a tanti altri ma sicuramente questo è un punto molto un tasto dolente diciamo per per i contestatori noi oggi siamo qua credo sia una grande vittoria per tutti perché comunque una sala pubblica regolarmente pagata e regolarmente concessa tramite permessi abbiamo tutto il diritto di essere qua tutto il diritto di poter parlare liberamente di ascoltare le opinioni e di poterci confrontare su un tema fondamentale come l'Europa quindi vi ringrazio ancora una volta e lascio con tutto il piacere del mondo la parola a Marco Mori il nostro candidato alle elezioni europee a cui consiglio tutti la preferenza durante durante il momento del voto e vi auguro buon ascolto e ancora grazie per la presenza mi associo nei ringraziamenti a chi oggi è venuto qui malgrado il clima non certo simpatico sicuramente è vero che questo clima ci fa pubblicità quindi da un lato la cosa non può che farci piacere dall'altro è amaro notare come comunque sia oggi più che mai trionfi il divide di timpera perché poi in definitiva probabilmente prese singolarmente con alcune di quelle persone che sono là fuori si potrebbe ragionare sui temi a noi cari l'uscita dall'euro l'uscita dell'Unione Europea il controllo del potere economico che deve tornare sotto il controllo della politica però non c'è modo di farlo e questo è un grandissimo regalo a quei grandi poteri economici sopranazionali che vorremmo distruggere perché la situazione oggi e da qui il titolo anche del mio libro è gravissima siamo a un passo dalla fine dell'Italia come stato già fino ad oggi l'Italia ha avuto gravi danni dalle cessioni di sovranità compiute la sovranità non può essere ceduta apriamo magari anche con un po' di Costituzione visto che ci viene detto che non siamo all'interno della Costituzione beh, la Costituzione attribuisce la sovranità al popolo la Costituzione consente a limitazioni di sovranità a fini di pace e giustizia ma non consente alle cessioni di sovranità limitare la sovranità significa contenere un potere d'imperio dello Stato contenerlo nel suo esercizio ma conservarlo a pieno cedere significa dare un potere sovrano a qualcun altro che lo gestisce al posto del popolo che a quel punto non può più fare nulla neppure all'interno dei Parlamenti quindi quello che è stato fatto fino ad oggi le cessioni di sovranità compiute con l'Unione Europea a partire dalla sovranità economica, monetaria sono già fuori dalla Costituzione e il passo finale che si sta per compiere segnerà davvero la fine della Repubblica cioè la nascita degli Stati Uniti d'Europa purtroppo oggi vediamo una coincidenza drammatica nei programmi di tutte le forze politiche a decezione di noi alle prossime elezioni anche partiti che negli anni scorsi avevano cavalcato il basta euro insomma ci ricordiamo anche le magliette di Salvini o il 5 Stelle che comunque, mi ricordo 5 anni fa per le elezioni europee metteva i posteri, i manifesti elettorali con quel famoso spezziamo le catene ce lo ricordiamo oggi tutti i loro programmi sono di fatto speculari a quello di un PD o di un più Europa cioè chiedono semplicemente di cambiare l'Europa mettendo fine all'austerità il problema è che per mettere fine all'austerità si dicono disposti a fare ulteriori cessioni di sovranità nazionale qualcuno forse avrà visto a coffee break il capogruppo alla Camera della Lega Nord della Lega, ma il Nord l'ha perso per ovvie opportunismo politico ma sempre quelli sono il capogruppo quindi della Lega che dice disponibile a cedere quote di sovranità nazionale o ulteriori cessioni in cambio della fine dell'austerità e allora qui bisogna fare subito una riflessione importante cioè qual era la funzione dell'austerità in questi anni? perché l'austerità non era il fine dell'Unione Europea l'austerità era un mezzo per raggiungere un fine cioè l'austerità serviva per fare in modo che popoli schiacciati dalla crisi a un certo punto fossero disponibili a cedere appunto tutta la loro sovranità e quindi a rinunciare al senso di appartenenza nazionale per aderire a qualcos'altro e questo per esempio ce l'ha confessato molto banalmente una persona come Mario Monti Mario Monti in una storica dichiarazione del 2011 se non va derrato quindi in prossimità del suo evento poi alla presidenza del Consiglio dice che le crisi e le gravi crisi sono lo strumento per far fare l'Europa passi avanti e che i passi avanti dell'Europa sono per definizioni cessioni di quote della sovranità nazionale per cui questa austerità oggi raggiunge il suo obiettivo finale e ha l'ultima funzione in questo periodo cioè l'ultima funzione dell'austerità è quella di sparire in cambio della fine appunto dell'Italia come Stato ora loro ci dicono noi potenziamo i poteri del Parlamento europeo e quindi tutto bene perché oggi bisogna ricordarlo il Parlamento europeo non ha iniziativa legislativa né ordinaria né straordinaria cioè abbiamo parlamentari che non possono fare le leggi quindi di fatto è un Parlamento completamente inutile loro dicono un domani non sarà più così il Parlamento avrà potere di fare le leggi sì però qui c'è subito un primo problema il Parlamento europeo legifera perfetto ma nel Parlamento europeo noi non abbiamo la maggioranza per cui a quel punto in un disegno di questo tipo se noi volessimo fare un intervento nel nostro paese dovremmo sempre e comunque chiedere il permesso a francesi tedeschi e tutti gli altri e solo se c'è una maggioranza possiamo fare un intervento in patria cioè questo non è minimamente compatibile con l'appartenenza della sovranità in Italia al popolo italiano perché lo Stato esiste se ha i suoi tre elementi fondanti popolo territorio e potere d'imperio di quel popolo cioè in Italia noi sul nostro territorio e se a un certo punto qualsiasi decisione sul nostro territorio passa per l'accordo con qualcun altro beh significa pacificamente che non siamo più padroni a casa nostra e questo è eversivo è giuridicamente eversivo soltanto l'articolo 139 è chiarissimo il 139 della Costituzione la forma repubblicana è definitiva la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale quindi non posso fare gli stati federali d'Europa io nel libro tanto oggi criticato dalla sinistra là fuori apro con una citazione di proposito di Laio Basso quindi una citazione che arriva da sinistra per ricordare come allora erano perfettamente consapevoli di cosa sarebbe successo se si fosse creata l'Unione Europea negli anni 50 lo diceva l'Unione Europea sarebbe stata semplicemente il terreno di conquista della grande finanza internazionale e qui passo a una delle dichiarazioni con cui ho aperto il libro che è arrivata dal Ministro della Giustizia Orlando nella scorsa legislatura che c'è non parlare a telefono Plinio perché lo sai che se no ascolto te non sento gli altri mi raccomando dichiarazione di Orlando nella scorsa legislatura apre dicendo ormai ci sono poteri sovranazionali di natura economica non democratici così forti in grado di mettere i parlamenti di fronte al fatto compiuto raccontandoci poi come l'inserimento del pareggio in bilancio in costituzione fu frutta di un ricatto ricatto possibile soltanto perché a un certo punto è stato consentito al potere economico di superare lo Stato in forza perché lo Stato ha perso sovranità e uno Stato senza sovranità non è in grado di controbattere le scelte del potere economico perché Casa Pound dal punto 16 del programma ha scritto attuare il modello economico costituzionale richiamando in particolare gli articoli 41 42 eccetera della Costituzione perché lì c'è scritto una cosa banale sacrosanta che dovrebbero capire quelli là fuori che l'iniziativa privata si libera ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale e cosa c'è di strano in questo cioè è ovvio che qualsiasi libertà deve fermarsi quando investe la sfera giuridica altrui io sono libero di circolare ma non è che posso trasferirmi a casa sua contro la sua volontà perché vado a incidere su una sua libertà e lo stesso vale per l'economia io sono libero di fare impresa ma se a un certo punto per bravura o per fortuna non mi interessa arrivo a un livello tale da essere dannoso per tutto il resto della collettività devo essere stoppato e chi è che può stoppare l'economia? Lo Stato nessun altro quindi con il Parlamento europeo anche riformato come vogliono fare tutti gli altri tranne noi che vogliamo l'Ital Exit risultato la sovranità sarà completamente dispersa perché voi pensate trovare accordi per interventi interni fra stati diversi culture diverse lingue diverse non è una ricetta per crescere la ricetta del disastro la storia ce lo insegna abbiamo provato tante volte esempi in cui gli unioni tra stati sono state forzate una che è finita da non tanto ce la ricordiamo molto vicina dall'altra parte dell'Adriatico la ex Jugoslavia unisci popoli a forza poi cosa succede alla fine? Purtroppo succedono cose non belle quindi l'idea e pensare che popoli diversi dove non c'è neppure una lingua comune possano decidere disinteressatamente e nel bene di ogni singola nazione è assurdo l'unica Europa possibile è un'Europa di stati sovrani che cooperano ma ciascuno indipendente padrona casa sua e quindi per questo devi partire chiaramente dalla precondizione che è ritorno a una moneta sovrana perché? e qui c'è l'altra parte del punto centrale della riforma europea che questi signori propongono ci dicono sì la banca centrale cambierà la sua funzione cioè diventerà una prestatrice illimitata di ultimistanza che vuol dire oggi i trattati europei hanno imposto una banca centrale che ha il divieto espresso di finanziare la spesa pubblica degli stati non può farlo la banca centrale finanzia semplicemente i gruppi del potere economico banche eccetera eccetera la banca centrale come chiaramente sapete non è che la moneta la recupera non so scavando per terra la crea letteralmente dal nulla quindi la banca centrale è quell'istituzione che crea una moneta questa banca centrale però non serve gli interessi dei nostri paesi perché ha il divieto di finanziare la spesa allora per imbogliarci ad accettare gli Stati Uniti d'Europa ci dicono cambiamo le regole della banca centrale la facciamo diventare una prestatrice illimitata di ultimistanza cioè testualmente dalla proposta del 14 maggio recentissima il Parlamento italiano ha votato Lega e 5 Stelle hanno mandato al governo di discutere esattamente questo progetto impegnandolo affinché chieda la riforma della banca centrale come prestatrice illimitata e qui diciamo beh è bello insomma la banca centrale che a questo punto ci può dare i soldi per la spesa ma uno abbiamo il problema che vi dicevo prima cioè a quel punto si mi può dare i soldi ma io devo mettermi d'accordo con tutti gli altri se no questi soldi non ce li ho quindi se devo intervenire ad esempio per un piano casa in Italia se non mi dicono di sì i tedeschi io comunque non lo faccio due c'è un altro aspetto ancora più grave che non viene minimamente menzionato che sfoglia già anche questo Parlamento europeo ipoteticamente riformato da ogni tipo di sovranità legislativa cioè il fatto che nessuno ovviamente non è un caso mette in discussione l'indipendenza della banca centrale cosa vuol dire che la banca centrale è indipendente sulla base dei trattati significa che abbiamo una banca che non può prendere consigli neppure consigli quindi figuriamoci in posizioni dai parlamenti nazionali e dal Parlamento europeo quindi è una banca che non fa quello che viene chiesto dai rappresentanti del popolo decide lei cosa finanziare per cui siccome l'indipendenza non è messa in discussione se noi anche cambiamo la banca la rendiamo prestatrice illimitata la scelta ultima su quali spese finanziare è della banca centrale che potrebbe comunque dirti di no risultato siccome una legge normalmente richiede coperture ho bisogno dei soldi per legiferare molto spesso ci sono interventi che non richiedono spese ma gli interventi principali richiedono soldi ad esempio un piano industriale di cui poi parleremo perché è la chiave per l'uscita dall'euro quindi un piano in cui lo Stato torna protagonista nell'economia per disciplinarla coordinarla come è scritto tra l'altro nella Costituzione uno Stato che vuol fare questo deve spendere perché banalmente se voglio nazionalizzare nuovamente un asset strategico devo pagare l'indennizzo al privato che ne è proprietario quindi ho bisogno di soldi bene ma se la banca centrale è indipendente io non posso legiferare realmente perché la mia legge è comunque subordinata all'assenso della banca centrale quindi comunque in realtà non ho la sovranità legislativa e questo è l'assetto caro al liberismo e ai poteri economici e in Audi che in assoluto il padre costituente che detesto e in Audi lo detesto completamente era un liberista convinto fortunatamente in assemblea costituente la sua posizione fu minoritaria non fece parte della seconda sottocommissione che scrisse la parte economica della carta ma era uno che testualmente ho riportato i passaggi sul libro testualmente voleva togliere allo Stato il potere di battere moneta e voleva fare in modo che le classi più deboli assaperassero di fatto lo diceva già allora come Padova Schioppa più di recente la durezza del vivere cioè che le classi più povere non dovevano essere aiutate dallo Stato in nessun modo perché dovevano emanciparsi cioè come se poi fosse possibile per chi non ha nulla competere alla pari di tutti gli altri di chi magari ha un capitale o è benestante nel mondo è impossibile non ci sono le stesse opportunità ecco c'era chi sosteneva invece che il mondo dovesse essere questo e infatti lui era un fautore dell'indipendenza della banca centrale e quindi di una banca scollegata dalla politica anche allora la scusa con cui volevano spingere verso questa direzione era ma la politica è corrotta la politica spende male i soldi allora è meglio che ci sia qualcun altro che decide beh ho capito e se io do le decisioni sulla sovranità monetaria a un privato dove sta scritto che poi lui fa gli interessi collettivi e non i suoi è evidente che se devo fare una scelta tra dare il potere a uno o dare il potere alla democrazia la democrazia sarà anche imperfetta ma perlomeno in una democrazia alla fine posso mandare a casa chi sbaglia mentre se mi prendo il sovrano illuminato che va avanti facendo gli interessi dei grandi gruppi finanziari come ha fatto la banca centrale fino ad oggi in questi anni beh ho dei serissimi problemi questo è un po' il quadro di quello che stanno facendo e la direzione che hanno preso che per carità era evidente da molti mesi non è soltanto l'ultima risoluzione del 14 maggio del Parlamento già la famosa Politeia di Settembre di Paolo Savona che fortunatamente è uscita prima della pubblicazione quindi l'ho potuta inserire nel libro era una richiesta da parte del governo italiano un'aperta richiesta a creare l'unità politica in Europa e quindi una richiesta di mettere fine alla Repubblica nuovamente tra l'altro in quella richiesta si erano spinti fino al punto di fare una proposta che io non ho altre parole che definire criminale perché Paolo Savona ha rilanciato un suo vecchio cavallo di battaglia io infatti ero già in contrasto ai tempi del piano B a cui avevo partecipato perché ero tra i blogger di scenari economici lui dice la Germania non vuole l'unione politica perché il rapporto debito-pil dell'Italia è troppo alto cioè il rapporto debito-pil dell'Italia non rientra nel 60% previsto dal trattato di Maastricht al che fa una proposta politica affinché la Germania ci dica di sì perché anche per qualche tempo vi ricorderete il discorso era ma tanto ci diranno di no e quindi usciamo invece il governo si è impegnato per farsi dire di sì e cosa ha proposto? ha proposto un piano di riduzione del debito pubblico nella misura del 60% del PIL attraverso garanzie di beni reali nazionali cioè dando in garanzia in caso di mancato rimborso delle rate per ridurre il debito le nostre tasse future e nostri beni pubblici gli asset pubblici che a quel punto diventerebbero direttamente pignorati dal creditore straniero questa proposta l'ha fatto il governo di centrodestra di centrodestra scusate di destra e 5 stelle quindi diciamo dei due serbatoi di disattivazione del dissenso una destra e una sinistra l'hanno fatta loro questa proposta era lì quindi perché sono partito da tempo ad attaccarli perché sapevo dove sarebbero andati perché purtroppo vedete dal punto di vista mediatico si parla sempre del nulla fondamentalmente no? spesso anche di questioni che oggettivamente non sono risolvibili senza sovranità pensiamo soltanto alla questione di immigrazione se non sei sovrano non è un tema su cui puoi intervenire però il dibattito si infiamma su qualcosa che lo Stato non può in questo momento controllare in ogni caso e questo serve a distrarre dai veri argomenti per esempio al telegiornale avete mai sentito parlare delle scelte che vengono fatte insieme al Consiglio europeo? no eppure l'unico organo demandato alla modifica dei trattati è il Consiglio europeo il Parlamento ve l'ho detto non è iniziativa legislativa il Consiglio europeo si ed è la riunione dei capi di Stato dell'Unione in quella sede all'unanimità si possono modificare i trattati e riunioni ce ne sono di continuo la prossima importante sarà in autunno dopo le elezioni l'ultima importante è stata nel maggio scorso è dove all'unanimità hanno approvato un documento quindi Conte pure ha approvato un documento che dà l'ok al fondo monetario europeo dà ok al rafforzamento dell'unione bancaria dà ok comunque al progetto di unione politica quindi è sempre lì cioè quello che dobbiamo fare poi in definitiva anche negli ultimi giorni di campagna elettorale è far capire questo alle persone cioè fargli capire che tutti gli altri hanno lo stesso programma programma attenzione che non solo è fuori dalla Costituzione a rigore di logica sarebbe ancora punito penalmente nel 2006 fu proprio su spinta lega che venne modificato il codice penale nella rubrica dei delitti contro la personalità giuridica dello Stato che tipo di reati erano? erano quei reati previsti dal codice che venivano configurati quando in qualsiasi modo si comprimeva l'indipendenza e la sovranità nazionale ed erano puliti con l'ergastolo cioè comunque sia quindi attaccare lo Stato nel suo cuore era uno dei massimi reati contemplati dall'ordinamento siccome la Lega aveva paura che questo reato fosse applicabile alle posizioni secessioniste che cosa aveva fatto? e non ha chiesto la modifica e la modifica passò fu inserita una parola nell'articolo 241 del codice penale che prevedeva il requisito della violenza per la consumazione del reato cioè a quel punto la firma di un trattato con cui di fatto distruggevo il paese che è l'equivalente di un'invasione armata straniera perché è la stessa cosa cioè se io domani mattina vengo invaso facciamo un esempio stupido dalle truppe di un paese straniero che entrano fisicamente in patria che cos'è che perdo? il territorio geograficamente rimane il popolo avrà i vittime ma non è che lo estingui e c'è ancora cosa perdi? il potere di imperio sul tuo territorio quindi con l'invasione armata subisci questo con un colpo di penna può accadere la stessa cosa perché se tu cedi sovranità fondamentali ti sei messo esattamente in quella stessa condizione è uguale non cambia nulla allora hanno inserito questa parolina magica violenza nell'articolo 241 e l'articolo 241 di fatto ha così depenalizzato il colpo di stato e questo è stato fatto tuttavia fortunatamente non sono così bravi nel modificare le norme si sono dimenticati un articolo 243 del codice penale che pulisce ancora questo tipo di comportamento cioè anche i semplici atti di intelligenza che sono gli accordi diretti a compiere atti ostili contro la personalità giuridica dello Stato ecco perché un anno fa nel corso della campagna elettorale delle politiche avevamo lanciato una denuncia che guarda caso quella a livello mediatico non ha sfondato e chissà come mai perché in quella denuncia dicevamo che chi portava alle elezioni politiche un programma che richiedeva gli Stati Uniti d'Europa doveva essere processato il partito sciolto ai sensi della legge scelba e non dovevano presentarsi perché tu sei completamente fuori dalla Costituzione questo sì che è avversivo giuridicamente avversivo ovviamente quando colpisci nel vivo casualmente la cosa non diventa un caso mediatico io ho un pochino di visibilità da questo punto di vista mediatica riesco a averla oggi con Casa Bound quando c'è qualche caos tipo questo perché altrimenti prima questi concetti potevi fare denunce andando a dire in televisione potevo dire magari a Canal Italia che Monti era un criminale non succedeva nulla nessuna reazione nessun titolo perché quell'argomento fa paura e allora scusate alziamo il tiro e andiamo un pochino più su sulle cariche dello Stato arriviamo a Sergio Mattarella un'altra cosa che ho detto più volte e ho inserito nel libro anche lì se qualcuno volesse ragionare o considerasse vilipendio parliamone ben venga un processo che consente di entrare nel vivo di questi ragionamenti Mattarella durante la scorsa legislatura cosa ha fatto? ha invitato con tutti gli onori al Quirinale gli esponenti della commissione trilaterale che cos'è la commissione trilaterale? tagliando ogni forma di complottismo lasciamo perdere il complottismo i complotti non esistono perché anche all'interno del potere economico ci sono gruppi in contrasto l'uno con l'altro quindi la trilaterale la devi definire in un altro modo non è la cupola che ha un'unica voce è però un sindacato di categoria dell'alta finanza è ovvio che il sindacato di categoria dell'alta finanza ha un po' più di potere con tutto il rispetto del sindacato dei metalmeccanici perché chiaramente ha capitali e possibilità di persuasione molto più alte la commissione trilaterale quindi che tipo di accordo ha trovato al suo interno è l'unico che metteva tutti sullo stesso piano cioè ragionare sul fatto che l'obiettivo principale del potere economico era fare in modo che gli stati si disinteressassero dell'economia altrimenti lo stato rimane una sorta di spada di damocle sulla testa del grande potere economico che può intervenire e fermarlo e quindi ostacolare il loro potere e la loro ricchezza e su questo sono stati tutti d'accordo anche se poi si danno le coltellate uno con l'altro e per fortuna perché se non si dessero le coltellate avevano già perso non ci sarebbe stata partita la trilaterale l'ha fondata un certo Rockefeller insieme a un certo Kissinger e altri personaggi di questo tipo negli anni 70 Rockefeller aveva curiosamente una storia familiare che gli aveva fatto assaporare cosa significa uno stato sovrano che può intervenire in economia il nodo di Rockefeller ai primi del 900 era proprietario della Standard Oil negli Stati Uniti la Standard Oil ai primi del 900 era di fatto diventata così forte avendo il monopolio del settore petrolifero in America da dare il grosso filo da torcere al governo americano da condizionarlo già pesantemente allora lo stato non era ancora quello che è oggi non si era ancora completamente reso al potere economico e aveva dato un freno a questa compagnia con l'antitrust attraverso una pronuncia quindi giuridica la compagnia è stata scorporata in 34 compagnie più piccole e la posizione di monopolio è in quel momento evaporata e forse non è un caso se poi il nipote negli anni 70 si ricorda magari di un'esperienza familiare e fonda un'associazione che ha come primo obiettivo quello di impedire che effettivamente il potere economico possa essere coordinato disciplinato e controllato dall'economia e questo poi non è altro che l'essenza dell'ideologia liberista e anche questo è un termine che sentiamo continuamente tutti si dicono liberali eccetera perché suona bene la parola libertà ma ve l'ho detto anche prima la libertà ha senso se ha comunque dei limiti altrimenti invade sempre la sfera di qualcun altro e lì si creano i problemi quindi questa ideologia portata avanti dalla commissione trilaterale ideologia quindi nefasta per lo Stato in contrasto radicale con la Costituzione viene affermata con una cerimonia solenne al Quirinale e la cosa più grave che ho denunciato anche in televisione anche questa è stata la dichiarazione che Mattarella ha fatto su questi passaggi lui ha detto che è giusto che esistano fori sganciati da ogni ufficialità quindi luoghi di incontro assemblee sganciate da ogni ufficialità nei quali vengono prese le decisioni che poi influenzano gli ha chiamati policy makers forse per non far capire cosa si intendeva l'abbiamo detto in inglese cioè vuol dire che lui ha detto che è giusto che le decisioni che poi influenzano i politici siano prese a porte chiuse in ambiti del potere finanziario ed economico questa è una frase avversiva cioè Mattarella è lo stesso che qualche giorno fa questo me lo sono stampato me lo tengo nel libricino delle conferenze ci è venuto a dire che l'articolo 41 non dice che l'iniziativa privata ha un limite nell'utilità sociale ha saltato quella parte e ha dato un'interpretazione sui generis dell'articolo 47 perché voi avete visto le strisciate delle notizie dei giornali in cui Mattarella ha ammonito che lo Stato non può coordinare il credito ci fosse qualche giurista uno almeno in qualche partito che abbia detto che cavolo stai dicendo l'articolo 47 dice la Repubblica disciplina coordina e controlla il credito dice l'esatto opposto che tra l'altro l'articolo 47 è fondamentale proprio perché è la norma che vieterebbe l'indipendenza della Banca Centrale perché se la Repubblica deve disciplinare coordinare e controllare il credito la Banca Centrale deve essere una controllata della Repubblica e quindi non può essere indipendente se la Banca è indipendente è la Banca che disciplina coordina e controlla la Repubblica al Parlamento noi e ci teniamo i milioni di disoccupati che abbiamo quindi capite che quando la situazione è a questi livelli è difficile avere una visione positiva sul futuro perché ormai hai direttamente le alte cariche dello Stato che ti raccontano una storia diversa addirittura nel progetto di Costituzione veniva scritto che la sovranità era incondizionata e incondizionabile oggi ti direbbero sei xenofobo sei razzista se dici la cosa del genere ma non è questo il punto perché poi i rapporti internazionali la cooperazione in ambito internazionale non ha nulla a che vedere col fatto che a casa tua ti gestisci tu cioè il discorso delle limitazioni e torniamo a questo ragionamento viene in gioco quando gli effetti di una tua decisione sovrana travalicano i confini dello Stato cioè banalmente faccio l'esempio stupido pensiamo a un trattato che riguarda l'aspetto ambientale quindi facciamo un trattato con gli altri paesi europei in cui ci impegniamo a ridurre le emissioni inquinanti è perfettamente valido è una limitazione di sovranità però il piano industriale in quel caso continuo a farmelo io devo rispettare delle regole ma non do la sovranità a qualcun altro ecco questo è il concetto non erano rapporti internazionali basati su tutt'altro come sono quelli di oggi qual è la soluzione quindi a questa situazione cerchiamo di portarla avanti perché noi ce l'abbiamo chiara ovviamente per poterla attuare hai bisogno del consenso quindi devi spiegare alla gente soprattutto cos'è l'euro e cos'è l'unione europea oggi i partiti che dicono e sostengono affermano di avere una strategia di tutto parlano tranne di cos'è l'unione europea cioè avete mai sentito Di Maio andare in televisione a dire che l'unione europea è un crimine no a me a quattro occhi però me l'ha detto ma se non lo dici in televisione gli italiani cosa ne sanno cioè qui abbiamo gente che fa fatica arrivare a fine mese non ha tempo di prendersi i trattati europei come posso aver fatto io studiarseli non funziona così molta gente le cose non le sa quindi per arrivare al consenso per poter uscire devi informare le persone quella sarebbe la prima parte della strategia non c'è non c'è anzi la fanno passare per positiva l'unione europea e vanno avanti verso questa direzione quindi questa parte assolutamente manca prendere il consenso quindi è fondamentale sui temi giusti dopodiché la precondizione per ogni provvedimento difensivo del paese è il ritorno alla moneta sovrana quindi la prima cosa da fare è il ritorno alla lira dopodiché poi inizi tutto un percorso che vedrà lo Stato intervenire in economia e quindi il piano industriale per il mondo reale perché il virtuale è banale cioè io torno alla mia moneta la mia moneta ovviamente la creo nelle quantità che voglio quindi ho piena sovranità legislativa ho piena sovranità sul territorio faccio quello che mi pare però poi devo saperlo fare in concreto quello che mi pare nel senso che potenzialmente lo posso fare ma poi devo anche sapere come usare la mia sovranità e allora il punto qual è e anche qui torniamo a un tema di interesse proprio per la trilaterale uno Stato oltre ovviamente la sovranità dal punto di vista giuridico deve avere anche una sovranità nel mondo reale e la sovranità nel mondo reale tu ce l'hai se hai autonomia energetica autonomia alimentare autonomia sanitaria quanto meno cioè nei tre settori da cui dipende la vita delle persone se tu in questi settori dipendi dalla multinazionale straniera se questa chiudi rubinetti tu non hai sovranità sei morto devi fare quello che ti dice lei ecco perché ai tempi del piano B lo criticai perché mancava il piano industriale cioè di ritorno alla lira ma quello cosa ci vuole faccio il decreto legge lo saprei scrivere io e il giorno dopo nazionalizzi chiaramente le banche prendi il controllo del sistema creditizio non hai nessun problema a farlo l'exit però poi se se vi siete fatti un giretto magari a Trieste avete visto no l'elettrodotto che arriva dalla Slovenia dalle centrali nucleari che ci portano all'energia se dicono il giorno dopo visto che è un'unione europea noi vi chiudiamo i rubinetti che cosa succede chiudono i rubinetti e noi come facciamo a livello energetico ecco questo è quello che dobbiamo preparare cioè più velocemente possibile arrivare a un'autonomia in questi settori poi è chiaro che giustamente come ricorda sempre Simone di Stefano quindi il nostro segretario il mondo è grande non è solo l'Unione Europea però tu non puoi fare una strategia così a casaccio nel momento che fai l'exit tu puoi sperare nel meglio e quindi sperare in accordi bilaterali che ti rendono più semplice la fase di transizione quindi che ti tirano al margine di tempo per gestirti la fase in cui tu arrivi all'autonomia in questi settori fattibile è possibile che sia così però devi essere anche pronto al peggio se questi chiudono ogni tipo di rubinetto e di fatto ci troviamo un embargo cosa facciamo? ci arrendiamo e cediamo la sovranità? ecco questo è il discorso che dobbiamo considerare quindi il piano industriale è fondamentale oggi grazie alla tecnologia che c'è non stiamo parlando di qualcosa di impossibile è assolutamente possibile e tra l'altro di nuovo il diritto anche qui ci dà una grossa mano perché noi abbiamo anche un articolo 43 della Costituzione che consente degli espropi di pubblica utilità quindi laddove ad esempio ho un gruppo un'azienda che mi serve di qualcosa di indispensabile per me sul mio territorio che nel momento dell'exit volesse remarmi contro e quindi di fatto chiudere andarsene non darmi più i prodotti che prima costruiva beh io posso nazionalizzare quindi ho le armi è ovvio che non posso farlo invece con quello che se ne è andato quindi il vero dramma ogni giorno che rimangono nelle euro e la delocalizzazione perché quando io perdo un'industria poi ricostruirla in patria non è banale ho bisogno di qualcuno che soprattutto lo sappia fare quindi paradossalmente anche lì dov'è la strategia di un governo che dice attendo per l'uscita gli avete visto recuperare qualche asset strategico in questo periodo no stanno continuando ad accederne l'ultima assurda abbiamo visto un gentiloni che con il MEF è entrato nelle quote di MPS prendendone la maggioranza quindi paradossalmente avremo di fatto una banca pubblica con cui difenderci dallo spread questo lo consentono anche i trattati il governo cosa fa? decide di smettere queste quote quindi andare nella direzione opposta autostrade sarà interesse di uno stato che vuole essere sovrano avere il controllo della rete di trasporti nazionale beh mi sembra ovvio che la diamo a uno straniero cioè qualsiasi problema me la chiude fino al discorso cioè è insensato Di Maio aveva detto dovrete passare sul mio cadavere se non nazionalizzerete autostrade basta sparito niente di tutto questo quindi non ci sono provvedimenti concreti neanche da questo punto di vista perché anche qui anche volendo rispettare i parametri europei quindi nell'incubo del contabile europeo io non posso fare deficit e allora come faccio a nazionalizzare se non ho soldi? attenzione se io davvero voglio uscire e avessi in mente di uscire piuttosto taglio qualcos'altro ma i soldi per recuperare un asset strategico per l'uscita li uso e invece no famosi mini bot mini bot erano nel programma di governo se ne è parlato in tutti i modici mini bot mi consentono di gestire di nuovo la fase dell'exit o al limite anche di renderla inutile a un certo punto avevano raccontato anche questo perché di fatto immetto moneta con questo strumento titoli di stato di piccolo taglio che inseriscono l'economia girano come moneta quindi aumenta la quantità di moneta circolante l'economia riparte li hanno fatti? no e perché non li hanno fatti? non li hanno fatti perché sarebbe stata di fatto una dichiarazione di guerra all'Unione Europea l'Unione Europea avrebbe immediatamente reagito perché per norma dei trattati tutti i paesi che hanno aderito all'euro le politiche monetarie sono totalmente sotto controllo dell'Unione Europea e quindi il nostro Parlamento su questo non può legiferare i minibot anche se erano titoli di stato di piccolo taglio sarebbero stati identificati come uno strumento di politica monetaria e da l'avrebbero fermato quindi il governo non li ha fatti per non mettersi in confronto davvero con l'Unione Europea è chiaro che quando noi parliamo di intervento dello Stato nel programma Casa Pound è l'unica che ha la ricostruzione del Liri chiaro noi così eravamo la quarta potenza al mondo quindi funzionava come modello però voi pensate di costruire il Liri oggi senza aver preso il consenso degli elettori non è pensabile la gente non lo accetterebbe nemmeno perché gli si continua a dire che il pubblico è inefficiente il 5 Stelle poi è nato su questo te lo racconta tutti i giorni quindi la gente non accetterebbe questo quindi dovresti fare anche qui un lavoro sull'opinione pubblica che non viene minimamente fatto soluzioni alternative non ne abbiamo non ne abbiamo perché se proseguiamo con questo progetto se ci saranno gli Stati Uniti d'Europa verranno purtroppo utilizzati per andare a contrastare Russia e Cina si andrà a creare una situazione di tensione internazionale senza precedenti dove lo scenario di una resa di questi paesi al potere economico internazionale è sicuramente poco credibile diventerebbe invece molto più realistico il rischio di una terza guerra mondiale questo potete fargli scongiuri pensare che io sia matto quando vi dico queste cose ma di nuovo cito Mattarella quando io sento dire che dobbiamo fare gli Stati Uniti d'Europa per sconfiggere Russia e Cina mi vengono i brividi perché non è un'operazione possibile tu puoi cooperare con gli altri paesi piuttosto farti i fatti tuoi mentre loro si fanno i fatti loro ma l'idea di superarli sconfiggerli è un'idea assolutamente pericolosa non è quindi un'Europa come terza via ma un'Europa in mano al potere economico americano che poi prosegue nello stesso disegno imperialista che viene portato avanti fin dalla conferenza di Bretton Woods la conferenza di Bretton Woods poi magari lascio un po' di spazio a qualche domanda però questo ve lo voglio citare perché ne ho parlato molto nel libro è estremamente importante perché a Bretton Woods poco prima della fine della seconda guerra mondiale si stabilì il modello internazionale degli scambi commerciali fondamentalmente quindi l'economia mondiale e le sue regole vennero stabilite lì a Bretton Woods si scontrarono due visioni una era quella americana col delegato White ed era la visione che poi ha trionfato quella che ha portato al fondo monetario internazionale alla banca mondiale a un mondo tutto che compete sulle esportazioni che di per sé è già conflitto perché insomma è abbastanza facile capire che non commerciamo con i marziani quindi tutto il mondo non può competere sulle esportazioni se qualcuno esporta ci sarà qualcuno che importa quindi la bilancia dei pagamenti mondiali alla fine è in pareggio se il mondo lotta tutto sulle esportazioni va soltanto in posizioni di conflitto questo però è il modello che è stato approvato che è andato avanti dall'altra parte c'è il modello keynesiano quello che poi è stato accolto anche nella nostra costituzione ma che invece non ha trovato accoglienza a livello internazionale e Keynes diceva esattamente quello che vi stavo raccontando prima come fosse indispensabile che le politiche degli stati fossero indirizzate verso il benessere dei propri cittadini e verso la domanda interna non alla competizione sulle esportazioni Keynes portò sul tavolo di Bretton Woods un progetto in cui i paesi esportatori non venivano considerati virtuosi venivano considerati da sanzionare in modo da riconvertire la loro produzione industriale verso i propri cittadini i paesi importatori invece eccessivamente importatori dovevano essere aiutati in modo da diventare più forti quello che lui voleva che circolasse era la tecnologia addirittura sui capitali Keynes che era capitalista attenzione sui capitali non voleva la circolazione dei capitali oltre il territorio nazionale voleva stati che cooperavano che si scambiavano ovviamente le merci di cui avevano bisogno ma che limitassero quella interconnessione economica frenetica che oggi vediamo e che è uno dei modi principali per far evaporare la sovranità e anche qui forse senza dilungarmi troppo nell'argomento che è tecnico bisogna studiare poi gli atti di Bretton e vi rimando eventualmente al testo su questo voglio farvi un esempio di un ipotatico governo unico mondiale tanto per farvi capire che il discorso di limitare le esportazioni non è folle ma è assolutamente pratico e logico se esistesse un governo mondiale la produzione all'interno di questo unico sistema come sarebbe disciplinata cioè noi faremo fare le nostre scarpe a 10.000 km di distanza e poi le porteremo qua no anche se ci fosse un'unica regia la produzione sarebbe piazzata da un punto di vista logistico più vicino possibile al luogo di consumo per un fatto di praticità quindi non avresti comunque un'eccessiva interconnessione non ci sarebbe questo tipo di problema è chiaro che questo sarebbe anche logico da un punto di vista di evitare sprechi di risorse reali perché spostare le merci per migliaia di chilometri significa utilizzare risorse significa anche inquinare se vogliamo quindi in un'unica regia in un caso di un'unica regia più o meno più o meno la produzione sarebbe collocata in quella logica che sono oggi i confini nazionali degli stati che non sono righe tirate a caso in una cartina ma spesso sono fatti anche in funzione della geografia degli aspetti appunto pratici del territorio questo sarebbe se ci fosse anche un governo mondiale quindi non è che deve spaventare ridurre l'interconnessione che intendiamoci non significa mica zerarla certo nei settori da cui dipende l'indipendenza l'autarchia potenziale la devi avere cioè appunto energia alimenti e sanità io lì devo essere in grado che se qualcuno domani mattina mi chiude i rubinetti di andare avanti da solo perché altrimenti perdo letteralmente sovranità ma è soltanto limitato a questo tipo di discorso non è che significa chiudersi intendiamola nel senso keynesiano però significa controllare ed evitare che possano nascere comunque gruppi sovranazionali e di nuovo se per esigenza produttiva fosse necessario un gruppo sovranazionale cosa dovrebbe essere fatto quel gruppo dovrebbe essere in mano propuota ai singoli stati non a un privato dovrebbe essere delle nazioni in modo che sia subordinato all'interesse collettivo mentre l'iniziativa privata avrebbe invece campo libero in tutto il resto ante 99% dell'attività umane chi apre un bar chi apre un'industria medio piccolo o altro non è un problema politico per la nazione quello deve rimanere uguale anzi quella competizione a quel livello è benefica per l'economia perché comunque lottiamo e ci impegniamo a quel punto di più ma non deve arrivare fino ai massimi sistemi pensare di dare l'estrazione la produzione raffinazione la distribuzione non so del petrolio ai privati lo capiamo da soli che è assurdo gli stati evaporano la democrazia non esiste certo oggi è difficile arrivare a tornare a quel mondo ma non c'è terza via dobbiamo per forza di cose parlare in questo modo alle persone farglielo capire e andare avanti e ricordiamoci una cosa poi davvero qui mi taccio l'Italia è una grande nazione se l'Italia portasse davanti le Nazioni Unite istanze di questo tipo sarebbe davvero possibile fare una nuova conferenza stile Bretton Woods e andare a ragionare di un cambio degli equilibri globali sarebbe possibile perché questi equilibri globali di conflitto possono soltanto portare alla catastrofe è chiaro che non può essere un piccolo paese andare lì e dirlo ma l'Italia sì l'Italia avrebbe un peso completamente diverso a partire dall'eliminazione del diritto di veto insieme alle Nazioni Unite che impedisce una reale democrazia mondiale qui parliamo tanto si riempiono la bocca con integrazione tra gli stati e altro ma poi cinque potenze vincitrici della seconda guerra mondiale hanno il diritto di veto beh dov'è ovviamente la possibilità di avere un mondo di stati che cooperano un mondo solidale è sempre un mondo in mano a chi aveva vinto e soprattutto ormai in mano al potere economico che ha preso il controllo degli stati che avevano vinto e questo è l'unico disegno visionario che dobbiamo portare avanti un passo alla volta con coraggio raccontando cose alle persone assolutamente controintuitive oggi ma che fino a pochi anni fa erano la macroeconomia perché fino a prova contraria Keynes che vi ho citato è il padre della macroeconomia oggi i manuali la raccontano in un modo diverso raccontano la critica dei neoclassici alle posizioni di Keynes cercando di farci passare il liberismo come quello che ha risolto i problemi del mondo e vi sembra che li abbia risolti Stati Uniti d'America c'è il massimo del liberismo hanno una banca centrale per sentirci illimitata come vorrebbero fare in Europa risultato abbiamo poveri sempre più poveri classe media che sparisce ricchi sempre meno ma ovviamente sempre con maggiori capitali il PIL sale sì ho capito ma se sale nelle mani di tre persone tantissimo tutti gli altri muoiono di fame voi capite che dove stiamo andando quindi questo è l'unico percorso che possiamo portare avanti a partire ovviamente dall'Italia guardando a casa nostra in una prospettiva di riprenderci sovranità riprenderci indipendenza e poi farci portatori a livello globale di un nuovo modello di cooperazione e solidarità tra gli stati che è possibile se l'Italia fosse protagonista vi ringrazio grazie mille Marco è sempre stato come sempre chiarissimo sui argomenti che spesso non sono semplici da affrontare se ci sono qualche domanda sì prego allora ci provo tanto grazie per quello che fa grazie a fuori studiando anche il libro che ho fatto prima e quello che mi domanda è se siamo arrivati a questo punto quindi siamo agli Stati Uniti d'Europa e io sono d'accordo la nostra costituzione è fantastica e c'è tutto ma quindi non ha in sé se sono riusciti a fare questo nonostante la costituzione non ha dei limiti di scolumicazione intensivi che io per esempio penso si ritrovi nel modello spizzero della realizzazione diretta cioè prima che non saremo noi davvero sempre a cedere e delegheremo i rappresentanti questi avranno sempre la possibilità è un'ottima osservazione non è possibile darti torto nel senso che effettivamente quei meccanismi di difesa che erano stati concepiti all'interno della costituzione hanno fallito è un dato di fatto hanno fallito anche perché ci sono state qualche volta hanno parlato un discorso lungo anche interventi legislativi ordinari che hanno contribuito a scardinare l'equilibrio tra i poteri una è stata la legge elettorale cioè eliminare le preferenze è stato un atto gravissimo per l'equilibrio del paese perché in assenza di preferenze i partiti cosa hanno fatto hanno cominciato a mettere uomini che volevano loro yes men che poi non rispondono al popolo quindi non è più possibile mandare a casa qualcuno che aveva preso una posizione diversa a quella che aveva prima stiamo qui si ripeto di nuovo sì io a questo infatti ti do talmente ragione che anche nel testo ho proposto un emendamento di alcuni articoli della costituzione in modo che fosse ancora più chiaro per il futuro l'appartenenza della sovranità al popolo l'appartenenza alla sovranità monetaria il controllo della sovranità monetaria in mano al Parlamento quindi delle modifiche che possono rendere chiaro questo per evitare ripetersi di questi fatti d'altronde collegi ordinarie avevano addirittura cambiato il codice penale perché parliamoci chiaro se il 241 fosse rimasto quello di una volta dal punto di vista penale si sfondava un magistrato si sarebbe mosso si muovono poco anche perché se hanno tutti contro vedete Ruggera Trani l'hanno trattato come fosse un imbecille e invece ha fatto un processo eccezionale un lavoro che ha smascherato davvero queste interconnessioni tra politica finanza stand under course non ne ha parlato praticamente nessuno l'hanno soltanto insultato il MEF non si è costituito neppure parte civile il ministero quindi economia e finanza non si è costituito parte civile l'ha isolato un piccolissimo successo l'avevo avuto anche io in una delle denunce fatte sul tribunale di Cassino dove il GIP pur archiviando aveva riconosciuto che la cessione di sovranità è reato il problema è comunque sempre quella riforma maledetta del 2006 che ha reso tutto più difficile quindi per forza di cose dobbiamo intervenire sicuramente in questo senso sulla Costituzione con alcune modifiche migliorative non sono modifiche ovviamente che la stravolgono però è una chiarificazione di alcuni passaggi ad esempio sull'articolo 47 ci va aggiunto espressamente che la sovranità monetaria deve appartenere ovviamente allo Stato al popolo al controllo del Parlamento va indicato è chiaro che comunque sia nonostante tutto ancora oggi sarebbe possibile avere un retail exit per intervento della Corte Costituzionale intanto la causa l'unica in Italia ce l'ho io in Corte d'Appello a Genova è ancora lì e ci si prova fino alla fine assolutamente il problema è che rispetto a quando sono partito ormai parecchi anni fa perché purtroppo i tempi della giustizia sono questi la situazione è notevolmente peggiorata perché proprio la distorsione dovuta alle leggi elettorali ha fatto sì che in Corte Costituzionale entrassero sempre più politici cioè amato non dovrebbe essere giudice della Corte Costituzionale nella scorsa legislatura una delle massime battaglie che c'è stata è stata proprio sui giudici della Corte Costituzionale che tutto sommato tra partiti siamo in Parlamento dobbiamo mettere i migliori giuristi non dovrebbe esserci questo grande dibattito per eleggerli quando ci metti oltre 20 votazioni allora stai facendo politica poi vai a vedere il curriculum di chi hai eletto e penso a Barberà e Prosperetti guarda caso hanno mandato in Corte due giudici che saranno detti palesemente favorevoli al pareggio in bilancio in Costituzione che invece disattiva completamente tutta la parte prima quindi il pareggio in bilancio in Costituzione è un abominio eppure hanno messo in Corte giudici favorevoli a questo per cui stanno letteralmente disattivando smantellando lo Stato giorno dopo giorno altre?